Musica Uno a uno tra Melitese e Borgo Grecanico ne parliamo con il presidente Carmelo Laganà che a titolo di cronaca in passato è stato anche il presidente del calcio a 5 futsal Melito Meritese con la serie B maschile e la serie A femminile che partita ha visto il presidente? Una partita molto combattuta da entrambi le parti, potevamo vincerla noi potevano vincerla pure loro, abbiamo avuto delle occasioni di entrambi le parti come dicevo prima quindi il risultato è giusto, complimenti al Borgo e complimenti anche alla mia squadra Uno a uno di solito i pareggi hanno un solo pregio, quello di muovere la classifica ne parliamo con il dottor Giuseppe Macheda, allenatore della Melitese Sì sicuramente è un punto, ci permette di rimanere davanti a loro abbiamo fatto punti dopo la brutta prestazione di martedì scorso però tutto sommato non è che sia contento perché a mio modo di vedere a livello tecnico, tattico c'era un abisso tra le due squadre perché noi abbiamo cercato di fare qualche trama di gioco, abbiamo cercato di proporre qualcosa gli avversari sono affidati a lanci lunghi sugli attaccanti che sono veloci, forti fisicamente ognuno sfrutta le proprie armi, non c'è nulla da dire però penso che per quanto si è visto in campo, su come le squadre stavano in campo e quello che hanno cercato di proporre, se c'era una squadra che doveva vincere penso che era la nostra Comunque la parte del Leone l'hanno fatta le difese, arcigne, dispotiche, veri muri di Berlino Sì, noi sappiamo la nostra forza dei ragazzi che giocano dietro ma anche c'è l'aiuto da parte dei centrocampisti quindi sappiamo le nostre qualità quale sono forse quello che ci manca è un po' di cattiveria un pizzico di grinta in più in determinati momenti della partita che poi alla lunga risultano momenti decisivi perché se dai qualcosa in più in determinate fasi della partita poi puoi trovare il gol quando le squadre si allungano avere più coraggio e più voglia di andare sulle seconde palle cose che noi oggi non abbiamo presa una perché loro giocavano sistematicamente con il lancio lungo sull'attaccante noi respingevamo la palla e non siamo mai riusciti a prendere una seconda palla per ripartire però non ne rimprovero nulla i ragazzi perché ho visto la voglia, la grinta di cercare di portare a casa la partita è andata così però tutto sommato sono contento della prestazione i derby, le estre cittadine sfuggono ad ogni pronostico quindi la tripla 1x2 è d'obbligo si sono sempre partite particolari dove si mette qualcosa in più in campo per cercare di sopperire se si hanno delle mancanze in alcuni aspetti si cerca di sopperire con la grinta e con la voglia però ripeto, mi avviso siamo una squadra superiore a loro però è andata così, non ci lamentiamo Salvatore Ida, factotum della società presidente, vicepresidente, cassiere, segretario quel che serve una bella partita soprattutto nel primo tempo con due grandi euro goal poi nel secondo tempo è capitato azioni da una parte e dall'altra ma il gioco non è che mi è piaciuto più onestamente il primo tempo naturalmente questa è la seconda partita che vedo come under 18 i nostri ragazzi sono ben quadrati anche se il mister sarà a sua competenza aggiustare qualcosa c'è stato qualche calo, c'è qualche calo fisico in qualche giocatore che naturalmente è stato male durante la settimana ma tutto sommato è una bella partita, piacevole la cosa più bella è che non c'è stato niente tra le due squadre ma già lo sapevamo perché sono due società che mirano ad ambiti molto più alti speriamo che il campionato sia molto più attivo, più bello per quanto riguarda i nostri anche perché molti di loro stanno facendo parte della prima squadra con grande entusiasmo, con grande fatica perché alcuni giocano anche due partite a settimana però sono ragazzi che crescono e naturalmente la nostra società sta facendo grossi sacrifici per portare avanti il nostro obiettivo le stracittadine che sono pronostici che non si possono sempre azzeccare che sono dei derby che sfuggono ad ogni pronostico Antonio Cormaci Io prima di tutto voglio fare complimenti a tutti i ragazzi che hanno giocato che hanno disputato un match piacevole per chi è venuto a vedere la partita abbiamo visto due secondo me bei gol sia il nostro che quello della polisportiva melitese uno di Pietrino Romeo l'altro di Scaramozzino quindi è una partita che si poteva vincere, si poteva perdere ma l'importante è che abbiamo dato dimostrazione a entrambe le squadre di fair play, di pensare e di voler solo giocare a calcio questa è la cosa che mi premeva di più questa era la cosa che gli dicevano i miei giocatori prima della partita e così è stato e sono contento perché l'abbiamo fatta entrambe le squadre poi qualche fallo, qualcosa ci nonostante i repoli etnei e gli spifferi siberiani in una parola i capricci di barba bianca che ha raggelato il sangue nelle vene sì ma anche se oggi devo dire che alla fine è stata una bella giornata ieri abbiamo giocato con i giovanissimi sotto la pioggia quindi oggi per noi è stata una bella giornata una bella giornata di sport e davvero ancora faccio complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo che hanno onorato melito calcistico oggi modulo tattico quasi uguale 4-4-2 che può diventare 4-3-3 col tre dente oppure 4-3-2-1 e 4-3-1-2 abbiamo provato durante la partita di mescolare un po' le carte in uno spostamento avevamo appena messo Binna centrale lui è riuscito ad andarsene forse due volte in una è stato un po' lezioso nell'altra invece non ha calciato bene e quella poteva essere la palla del match come l'occasione che abbiamo avuto batte e ribatte dove è stato Bravissimo Manti che non scopriamo giusto oggi perché è un ragazzo che quando ha giocato con noi l'ho visto sempre attento, sicuro e autore di pregevoli parate ha giocato discretamente bene nel primo tempo ma decisamente bene nel secondo il borgo crecanico avrebbe meritato di più sì, diciamo che nonostante i nostri tre fuori quota che oggi abbiamo portato alla prima squadra noi abbiamo una squadra piena di 2002-2003 Pietrino e Romeo in 2003 Bertone in 2002 Romeo e Cilione in 2002 quindi magari l'esperienza di questo campionato non ce l'abbiamo e in alcuni un po' l'emozione e la tensione si è fatta sentire sulle gambe perché giocavamo la palla troppo frettolosamente non roggianovamo e questo incideva molto sulle nostre trame non c'è stato spazio oggi per Big Show John Cena, Rey Mysterio, Battista d'altra parte i ragazzi sono compagni di scuola sono compagni di giochi, compagni di classe compagni di murette e di merenda e perfino il ragazzo dalla porta accanto non è successo niente per quanto riguarda screzzi, pettegolezzi spinte e controspinte di un certo tipo lo dicevo prima, questa è una crescita noi parliamo sempre di Melito che non cresce oggi secondo me c'è stata una crescita mentale di tutti i ragazzi che hanno pensato esclusivamente a giocare la partita a vincere la partita è questo che bisogna fare sempre è questo che bisogna pensare di fare hanno avuto la meglio le difese oggi? sì, sì ai punti forse noi possiamo recriminare però alla fine abbiamo affrontato una squadra forte perché lo sapevamo che sono forti sono avanti in classifica più avanti di noi quindi evidentemente sono stati bravi a battere il Reggio Mediterraneo quindi evidentemente sono una squadra che può ambire a fare i playoff con le belle individualità tipo quello scaramuccino di cui si parla un gran bene nell'ambiente sì, sì, è stato pure autore di un bel gol perché è stata un'azione che si è creata da solo e poi è stato bravo a calciare in porta con una violenza che il nostro portiere non è riuscito a parare quindi ma io oggi mi sono divertito sinceramente perché non mi piace quando c'è altro il calcio è questo, è puro, è così ed è giusto che sia così eccolo qui il grande Obinna che ha messo a segno in questo campionato otto reti che che ne possano dire certe classifiche e che sa dire anche qualche battuta al microfono parliamo della partita di oggi diciamo che la partita di oggi è un po' difficile perché loro sono forte squadra, squadra che gioca a pallone quindi non abbiamo riesci a segnare di gol di... hai giocato solamente 45 minuti più qualche minuto del primo tempo Sì, perché sono infortunato di Inguine mi senti dolore di... cavia, cavia quindi non riesci a giocare 100% Concludiamo la serie delle interviste con l'allenatore dell'Under 19 Enzo Napoli Ceggio per gli amici, ricordiamolo grande campione degli anni passati ma poi anche come allenatore ha dimostrato di avere i numeri giusti al posto giusto parliamo della partita di oggi La partita per essere un derby è stata da tutte e due le squadre dai ragazzi in modo particolare rispettata nel senso del comportamento sportivo che era la cosa principale perché i derby si sa i nostri paesi si sentono quindi la cosa principale che avevamo detto era intanto il comportamento sportivo quindi su questo piano diamo 10 a tutte e due le squadre risultato si poteva stare la vittoria per una o per un'altra forse qualche punto in più noi con quelle due palle che abbiamo avuto alla fine del secondo tempo se no la partita è risultato giustissimo Le cose vanno bene diciamo così così nel campionato di seconda categoria e anche nel campionato regionale Under 19 Noi siamo intanto in prima categoria le cose non vanno bene perché ormai sono quattro partite che non vinciamo quindi domenica è d'obbligo vincere perché l'ambiente ha bisogno di ripartire l'Under 18 ci interessa ormai fare bella figura come stiamo cercando di fare con i nostri ragazzi ambizioni non possiamo avere perché ormai il campionato diciamo è quasi deciso nel senso che Reggio Minato Ma ci sono i play out i play out e i play off in questo campionato o no? Sì vabbè ma ormai anche se ci dovesse essere la squadra ha dimostrato la sua capacità la sua qualità quindi bisogna andare con i piedi di piombo i risultati che volevamo ottenere sono quelli della crescita dei ragazzi e credo che la società sia più che soddisfatta ambizione di play off e cose lasciamoli stare per il prossimo anno poi lasciamoli come una possibile ambizione per la prima squadra l'Under 18 va bene così